Nel 1910 lavoravo in Russia, nel Palazzo Imperiale a Tsarkoye-Silou. Lo zar Nicola II posava con semplicità e chiacchierava con me come con un amico. Si parlava di tutto, molto della natura, molto dell'animo umano. Ed io avevo trovato in lui dei sentimenti così delicati e profondi che mi ero proprio affezionato a lui e lui a me. Circa un mese prima della Pasqua russa, lo zar ricevette la visita annuale dell'emiro di Bukhara. Fu uno spettacolo fantastico. Lo zar, circondato dalla sua corte, ricevette l'emiro, che era accompagnato da parecchi dignitari della sua corte, vestiti dai più bei costumi orientali, dai colori meravigliosi. Il costume dell'emiro era in seta nera, con sottana rosso cupo e ornamenti d'oro. Egli portava come al solito splendidi doni, fra gli altri un bacile d'argento su cui erano oggetti d'oro ornati di pietre preziose, rubini, smeraldi, brillanti della più bell'acqua e un gran numero di tappeti di Bukhara, che vidi il giorno dopo accatastati in un salone e che destarono in me un gran desiderio di averne qualcuno. Nella grande sala di ricevimento erano presenti la zarina, le granduchesse, molti generali e dignitari di corte, in uniformi e costumi lossuosi e ricchi di ricami d'oro. Fuori, il cielo grigio e cupo, si scorgeva attraverso le grandi finestre che davano sull'immenso cortile. Un'ala del palazzo al di là del cortile, velata dalla nebbia che la faceva apparire ancora più lontana e ne sfumava i contorni, faceva da sfondo. Cadeva lenta la neve, ravvivando il colore plumbeo del cielo. Nel cortile montavano la guardia cosacchi del don a cavallo, nelle loro magnifiche uniformi turchine, col colbacco di astra cannero che finiva con una calottina rossa ed una croce d'oro. La neve si adagiava lenta sulle loro spalle e sulla groppa dei cavalli, sulle belle gualdrappe e sulle borse laterali, dove erano collocate le pistole secondo l'uso orientale. I cavalieri brandivano una lunga lancia. Era uno spettacolo che incantava, una pittura, tanto era suggestivo il quadro, e così armoniosi e teneri i colori, anche se qualche nota più vivace ne turbava l'insieme. Essi cavalcavano su e giù indifferenti alla neve e al freddo. A un tratto l'imperatore, l'emiro e tutti del seguito si avvicinarono ad uno dei grandi finestroni ed io, che ero sul fondo della sala, con uno degli addetti dell'ambasciata italiana, feci altrettanto. passavano nel cortile caracollando leggeri e aggraziati quattro magnifici purosangue arabi bianchi, montati da bellissimi e abilissimi cavalieri nei loro pittoreschi costumi. Era uno spettacolo che ancora ho negli occhi dopo tanti anni, come lo vedessi ora.